Buonasera, la provincia di Savona ha messo la parola fine sul problema della depurazione delle acque. Il territorio che vada fino alle Ligure ad Albenga convergerà sull'impianto di Borghetto, mentre Andorra e Stellanello si rivolgeranno al depuratore di Imperia. La conferma è giunta oggi dal presidente della provincia di Savona, Angelo Vaccarezza. Sentiamo. Sulla problema della depurazione delle acque noi aspettiamo l'UMI. La provincia di Savona ha preso una delibera ancora il 22 aprile di quest'anno, delibera nella quale noi su, ci tengo a precisarlo perché magari qualcuno se lo dimentica, su un'iniziativa della Regione Liguria e un incarico dato da Regione Liguria a Filse, abbiamo perfezionato il lavoro di collettamento della realtà albenganese, della parte più grossa della città di Albenga e della sua vallata con Borghetto Santo Spirito. I soldi ci sono già, sono 4 milioni e 200 mila euro, 2 milioni vengono dalla Regione con i fondi FASC, quindi ne risparmia e ne storna una grossa parte spedita poi ai prossimi esercizi, un milione e mezzo è nelle casse del Comune di Albenga e abbiamo la lettera, prima firmata dal Sindaco Guardieri e poi rifirmata e riconfermata dal Commissario Montella durante la fase commissariale, 750 mila euro sono nelle casse della provincia. Con questi 4 milioni 270 mila euro più o meno noi siamo in grado di fare il progetto esecutivo e realizzare i primi lavori. Questo comporta immediatamente la sospensione dell'infrazione comunitaria, l'infrazione comunitaria che dovrebbe essere una cifra tra i 13 e i 17 mila euro giorno che questa realtà dovrebbe pagare. Ricordo a tutti che il progetto da cui siamo partiti quando noi siamo entrati in provincia di Villanova d'Albenga era 140 milioni di euro, quindi stiamo parlando di dimensioni molto diverse, è un progetto diverso, noi riteniamo un progetto migliore anche perché adesso non si va più in salita e a livello di gestione sarà più facile poi gestirlo. Sono state fatte le scelte che noi ritenevamo logiche, la Valmerula, cioè Testigo, Stellanello e Andorra oggi non vengono più a Villanova con un giro pazzesco e soprattutto superando dei dislivelli importanti ma vanno a Imperia. In questo abbiamo avuto la collaborazione importante di Regione e in modo particolare del Presidente Burlando con cui questo percorso l'abbiamo fatto insieme. oggi noi siamo pronti a partire, è finita la campagna elettorale, forse è un momento così in cui è anche giusto che la gente rifletta però non riflettiamo troppo. La infanzione comunitaria è domani mattina, i soldi ci sono, il progetto c'è, il lavoro l'abbiamo fatto, cosa aspettiamo? Nei prossimi giorni ci daranno le risposte. Sono certo che cominceremo, se qualcuno dovesse per caso aver ripensato un'altra volta alla gestione della fase depurativa del ponente, insieme al ripensamento si deve assumere anche la responsabilità però di buttare via anni di lavoro, una soluzione certa e finanziata, risparmi importanti sui costi e soprattutto di evitare l'infrazione comunitaria che domani mattina arriverà. E' attesa nelle prossime ore la decisione in merito alla richiesta di scarcerazione discussa oggi di Claudio Scaiola che dallo scorso 8 maggio si trova nel carcere di Regina Celi. Ad affrontare questa istanza sono i giudici del Tribunale della Libertà di Roma. Intanto sono emersi i primi particolari dell'interrogatorio dell'ex ministro in cui lui respinge ogni addebito. Sentiamo. C'è grande attesa di sapere se i giudici decideranno la liberazione di Claudio Scaiola dopo poco più di un mese di detenzione, se gli concederanno i domiciliari o se confermeranno il carcere. Secondo i legali dell'ex ministro sarebbero infatti venuti meno i presupposti della detenzione e in subordine alla liberazione gli avvocati di Scaiola chiedono che gli vengano concessi almeno gli arresti domiciliari. Intanto sono emersi i primi particolari del suo interrogatorio durante il quale il politico imperiese nega di aver mai fatto affari con nessuno e quindi neanche con Matacena. Non sono capace a fare affari avrebbe detto Scaiola l'ultima volta che ho comprato casa ho fatto casino. L'ex ministro ha anche spiegato la sua volontà di candidarsi alle europee per mettersi alla prova dopo la soluzione per la famosa vicenda della casa vicino al Colosseo. Nelle prossime ore è poi anche attesa la decisione sulla richiesta di scarcerazione per Chiara Rizzo, la moglie del latitante Amedeo Matacena che si trova ancora a Dubai per evitare una condanna a 5 anni di reclusione. Due dipendenti della DOX Lanterna sono stati arrestati dai carabinieri di 20 miglia alta per furto aggravato in concorso. I due di 39 e 45 anni sono stati sorpresi in flagranza di reato a prelevare 40 litri di gasolio su un camion della loro stessa ditta che era parcheggiato nella zona di Camporosso. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per appurare se i due siano responsabili di altri analoghi furti. Allarme è rientrato a Ceriana dove era scattata la mobilitazione dei soccorsi dopo la sparizione di un 85enne che dopo essere uscito di casa il pomeriggio aveva fatto perdere le proprie tracce. L'anziano è stato infatti ritrovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri poco prima del luna di notte. Determinante è stato l'apporto dell'unità cinofila che ha guidato i soccorsi fino a ritrovarlo poco a monte del paese. L'85enne pur in stato confusionale è stato ritrovato in buone condizioni fisiche. E' nuovo sciopero su due giorni per i lavoratori della Agnesi d'Imperia. Braccia incrociate, quattro ore per turno, domani e sabato, per protestare contro la chiusura dello storico pastificio. Vediamo. Dopo l'incontro di ieri con i vertici della Colussi che hanno praticamente minacciato di chiudere lo stabilimento in anticipo se proseguiranno gli scioperi, oggi è arrivata la pronta risposta dei lavoratori con la proclamazione di due nuovi scioperi di quattro ore ciascuno per venerdì e sabato. La produzione resterà quindi nuovamente bloccata con il sistema di astensione dal lavoro a singhiozzo nell'arco delle due giornate, con le quattro ore di sciopero divise per turni. I lavoratori non sembrano considerare con particolare entusiasmo la proposta della Colussi di creare un centro per la produzione di sughi nell'immediato entroterra imperiese con l'assunzione di parte del personale impiegato oggi. Per molti questo infatti è un modo per riuscire a dismettere lo storico pastificio negliese e trasformarlo in un'operazione immobiliare. I carabinieri di Alassio hanno arrestato un 23enne pregiudicato e denunciato un 17enne, entrambi residenti a Sanremo scoperti mentre stavano trasportando alcuni generi alimentari rubati in un Conad di Andorra e accaduto alle 5 della scorsa notte. I due sono stati fermati mentre stavano transitando vicino ai binari con gli scatoloni di generi alimentari asportati dall'interno del piazzale del supermercato. I carabinieri di Armanditaggio hanno invece denunciato due nomadi di 21 e 27 anni fermate mentre si stavano aggirando con fare sospetto nelle vicinanze di alcune abitazioni del centro storico. Le zingare che erano in compagnia di una terza donna sono state trovate in possesso di alcune schede rigide in plastica di grosse e dimensioni solitamente usate per aprire le abitazioni. Il sospetto dei militari era quindi quello che stessero per compiere alcuni furti nelle abitazioni di Taggia. Due sono state così denunciate ma per tutte e tre è scattato il foglio di via obbligatorio dal comune di Taggia. Si è svolta a Sanremo una riunione tra il questore d'Imperia Pasquale Zazzaro le categorie economiche e di titolari dei locali presenti in Piazza Bresca. Tra gli argomenti trattati anche la gestione dei possibili festeggiamenti dopo le partite della Nazionale ai campionati del mondo di calcio. Sentiamo. Dopo i fatti incresciosi avvenuti nel recente passato c'è preoccupazione a Sanremo per i possibili festeggiamenti dopo le partite della nazionale italiana ai campionati del mondo di calcio in Brasile. Per questo si è anche svolta una riunione tra il questore d'Imperia Pasquale Zazzaro, le categorie economiche e di titolari dei locali presenti in Piazza Bresca, luogo tradizionale della Movida Sanremese. Oltre all'inizio della stagione estiva si è infatti anche parlato dei festeggiamenti calcistici spesso sfociati in momenti di isteria collettiva con gravi risvolti di ordine pubblico e danneggiamenti. Intanto c'è già polemica in città con il neoconsigliere comunale Alessandro Il Grande che ha criticato l'attenzione verso Piazza Bresca rispetto ad altre zone della città, meno considerate anche sotto questo aspetto. Blizzantidroga da parte dei carabinieri di Bordighera e di quelli di Sanremo che hanno arrestato in flaganza per detenzione e fini di spaccio un tunisino di 28 anni. Lo straniero che era anche irregolare sul territorio nazionale è stato fermato in un appartamento di Via Bezzecca alle spalle del casino di Sanremo mentre stava confezionando alcune dosi di cocaina. I militari hanno infatti ritrovato sul tavolo dell'alloggio 10 grammi di cocaina già suddivisa in 10 dosi, un pezzo di hashish del peso di 14 grammi, bilancini e tutto il materiale occorrente per il confezionamento. È stato arrestato solo pochi giorni fa dai carabinieri di Villanova d'Albenga per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso complessivamente di 100 grammi tra marijuana e hashish e ora è stato di nuovo trovato con altra sostanza stupefacente. Protagonista un sessantenne di Torino ma di fatto residente a Ranzo che durante un controllo stradale è stato nuovamente trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e altra è stata poi rinvenuta nella sua abitazione. Per questo è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente. Facciamo ora una piccola pausa, ci vediamo tra poco con la seconda parte del telegiornale. A termine di una riunione che si è svolta oggi in provincia d'Imperia alla presenza dell'amministrazione provinciale del prefetto Fiammaspena, dell'assessore regionale al lavoro Enrico Vesco, dei sindacati e dei vertici della Rivera Trasporti, tra cui il direttore generale Enzo Amabile, è stato raggiunto l'accordo per la sospensione fino al prossimo 30 giugno della disdetta della contrattazione di secondo livello per i dipendenti dell'RT. Questo, secondo i piani dell'azienda, avrebbe comportato una riduzione in busta paga di 100 euro per i lavoratori. L'impegno di tutti, comuni compresi, è quello di contribuire economicamente al sostentamento della Riviera Trasporti. C'è da sciogliere infatti il nodo sulla questione finanziaria dell'azienda che lamenta debiti per circa 3 milioni di euro. E siamo alla politica perché è la resa dei conti all'interno del centrodestra, in particolare di Forza Italia, dopo la debacle elettorale che ha portato alla perdita di due comuni importanti come Sanremo e Ventimiglia. Mentre per la città di confine si parla del peso che ha avuto il clima che si era creato negli ultimi giorni, a Sanremo il dito viene puntato contro l'ormai ex sindaco Maurizio Zoccarato ed il suo entourage. L'autocritica interna è giunta anche in regione dove si sta analizzando la situazione per apportare i necessari correttivi. Sentiamo il capogruppo di Forza Italia e nel consiglio regionale Marco Melgrati. Pensiamo a Ventimiglia dove si era sfiorata la vittoria al primo turno per 23 voti e quindi si è andati al ballottaggio con un candidato sindaco, sindaco Inpectore, che dichiara di fare una giunta tecnica. Bisogna ripartire dal territorio. Io credo che nelle file di Forza Italia e l'ho dimostrato il Levante dove abbiamo vinto a Santa Margherita e a Lavagna che storicamente erano in mano alla sinistra. E festeggiamenti ieri sera a Roverino per l'elezione del nuovo sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. Alla serata ha preso parte anche il presidente della regione Claudio Burlando accompagnato dall'assessore Raffaella Paita e dai consiglieri regionali Massimo Donzella, Sergio Sibilia e Giancarlo Manti. Insieme a loro anche numerosi sindaci del Ponente Ligure come Alberto Biancheri di Sanremo e Carlo Capacci di Imperia. Ieri sera ad Andorra si è tenuto il primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative che hanno portato sulla poltrona di sindaco Mauro De Michelis. Il primo cittadino ieri sera ha prestato giuramento e ha annunciato la sua giunta che è composta da Paolo Rossi, vice sindaco con delega allo sport, manifestazioni e lavori pubblici, Patrizia Lanfredi, assessore alle politiche sociali, Maria Teresa Nasi, assessore alle politiche giovanili e cultura e poi Fabio Nicolini, assessore al bilancio trasporti e ambiente. Al termine dell'assise abbiamo avvicinato il sindaco De Michelis. Sentiamo. Mauro De Michelis ha appena prestato giuramento quale nuovo sindaco di Andorra. Un primo consiglio comunale, già la nomina della giunta, anche un annuncio, la nomina di un presidente del consiglio che sarà però a costo zero. Sì, il nostro compito non è certo quello di aumentare le poltrone ma di garantire un maggior servizio alla collettività. Quindi questa figura del presidente del consiglio comunale che sarà istituita a costo zero per il lente e quindi per i cittadini servirà a valorizzare il consiglio comunale in modo tale che non ci sia mai più un sindaco che possa dare delle indicazioni dirette a tutto il consiglio ma ci sarà invece una figura di mediazione di tutto il consiglio nel rispetto delle maggioranze e delle opposizioni. Mano tesa anche verso l'opposizione e quali i primi obiettivi? Mano tesa alle opposizioni perché abbiamo fatto una campagna elettorale dicendo che alcune cose buone sono state fatte e ne prendiamo atto. Il nostro compito è di migliorare, di reagganciare la ripresa economica nel momento in cui si presenterà magari lavorando un po' di più su commercio, su turismo, su artigianato. Quindi questo è un modo per tendere la mano alle opposizioni e lavorare insieme per il bene della collettività dei nostri cittadini. Un rapporto attraverso di lei forse più diretto con la provincia di Savona? Beh certamente con la provincia di Savona oggi c'è un buon rapporto ma io svolgo proprio la figura di presidente del consiglio provinciale in provincia di Savona quindi ho buoni rapporti con tutti e là ho proprio questa figura, quella di garanzia. Quindi io ci credo molto nella figura del presidente del consiglio, sempre e non niente. Buon lavoro sindaco. Grazie, grazie molto. E il sindaco di Ponte d'Assio, Franco Ardissone, con una nota ha ringraziato dopo le recenti elezioni i concittadini per la dimostrazione di fiducia, ribadendo che il loro appoggio sarà stimolo a proseguire e migliorare la gestione amministrativa del comune. Si è tenuta presso il Palazzo del Governo d'Imperia una riunione presieduta dal prefetto Fiammaspena per individuare possibili soluzioni atte a superare il ritardo nel pagamento degli stipendi ai lavoratori della società Technics SPA che si sta occupando di alcuni lavori di completamento nel raddoppio ferroviario tra Andorra e San Lorenzo al mare. Dopo un'attenta analisi della situazione è stato raggiunto un accordo tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori che prevede la regolarizzazione delle situazioni di disallineamento delle voci della busta paga per le quali sono state riscontrate divergenze per i mesi precedenti. In deroga alle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva verrà poi accettato il pagamento delle retribuzioni in ritardo non oltre alla mensilità di agosto. La polizia di Imperia è dovuta intervenire oggi al cimitero di Oneglia dopo una lite scoppiata tra una donna e due camperisti. Tutto è nato dalle rimostranze della donna verso due ragazzi che sembra avessero appoggiato alcuni asciugamani sul cofano della macchina. E all'uscita dal Camposanto la donna ha ritrovato un pesante insulto inciso sul cofano della vettura. È stato così chiamato il 113 per la denuncia e per prendere le generalità dei due camperisti. Cambiamo argomento. La tutela dei brevetti in ambito europeo è stata al centro di un convegno organizzato a Genova da Confindustria. Ai lavori è intervenuto anche il presidente di Union Camere Liguria Paolo Odone. Vediamo. Presidente Odone, il territorio della Liguria come sempre reclama infrastrutture. una necessità, un bisogno fortemente sentito da tutto il tessuto sociale, dal mondo delle imprese in particolare che adesso fanno appello anche al Ministro Lupi. Sì, le associazioni di categoria che aderiscono a Rete Imprese Italia, cioè il commercio, l'artigianato e l'agricoltura, hanno chiesto al Ministro Lupi di incontrarlo qui a Genova per parlare della situazione proprio delle infrastrutture in Liguria che sono la linfa vitale per lo sviluppo delle imprese. Abbiamo in questo momento una casa, ne dico il turismo che sta funzionando abbastanza bene, ma voi sapete che alle volte chi viene dalla Francia e va a prendere un traghetto a Savona o a Genova rischia di perderlo se c'è un minimo intoppo di qualsiasi genere. Ascoltando la radio al mattino, prima c'era il nord di Mestre, adesso purtroppo la Liguria e Genova sono sempre in pole position e non va bene. Abbiamo già avuto modo di chiedergli, e lo dico un po' scherzando, ma forse benedetta, la frana di Andorra che a mezzo ha rilanciato la necessità di lavorare, come abbiamo fatto da anni insieme ai nostri amici francesi, per collegare stabilmente l'Euroregione, passare quindi il valico di Ventimiglia, collegarci con Nizza, Marsiglia e Parigi. Anche da quella parte lì ne abbiamo assolutamente bisogno, non parlo delle infrastrutture autostradali dove chi frequenta la nostra bellissima regione trova degli intoppi senza lavori e senza incidenti, per esempio allo svincolo di Savona. Ci sono code interminabili proprio perché è necessario fare anche qualche piccola correzione. Gli parleremo di questo con molta accorratezza perché sarà anche occasione, facendo partire alcune opere, di creare posti di lavoro in un momento in cui ce n'è enormemente bisogno e poi la ricaduta più generale, come tutti sanno, è quella di avere un traffico più snello, quindi meno tempo e l'impresa si sviluppa meglio. L'appuntamento è per fine mese con il Ministro Lupi? Sì, lo vedremo a Genova. Adesso lui gentilmente ci ha fatto una proposta che noi, le associazioni di categoria, vorranno firmare. Credo che entro la fine del mese avremo modo di vederlo, di esporgli queste problematiche e nel contempo la lettera che abbiamo approntato vuole spendere una parola molto forte a favore dei corpi intermedi, insomma il primo Ministro sembra considerarli una specie di palla al piede, invece noi crediamo che le associazioni di categoria e soprattutto le Camere di Commercio siano necessarie allo sviluppo di un'Italia che è frazionata in mille bellissime località che hanno bisogno di un accompagnamento locale, altro che cancellare tutto ciò che fa impresa, internazionalizzazione, promozione dei prodotti, quindi pensiamo che anche questo sia utile dirgli e penso che lo dovrà condividere. La Banca Carigge rende noto che è stato approvato il documento di registrazione, la nota informativa e la nota di sintesi relativi al prospetto informativo dell'offerta in opzione agli azionisti in ammissione alla quotazione sul mercato telematico delle azioni ordinarie per l'aumento di 800 milioni di euro, un aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società lo scorso 27 marzo. E nuovi disagi sulla Statale 20 che collega l'estremo ponente Ligure con il Basso Piemonte. Fino a sabato sarà infatti sospesa la circolazione notturna dalle 22 alle 6 del mattino seguente nel tunnel di Tenda, questo per permettere i lavori necessari in seguito ad alcuni guasti agli impianti tecnologici interni alla galleria. Questa sera alle ore 21 andrà in onda su Imperia TV il Consiglio Comunale di Andorra e a seguire verso le 22 sarà trasmesso un lungo speciale sulla corsa al Monte Faudo disputata domenica scorsa. Una gara entusiasmante risolta solo negli ultimi metri che vi faremo vivere con una telecronaca in testa alla corsa e con le interviste a tutti i protagonisti. Non mancherà anche un appendice dedicata agli eventi collaterali del sabato. E ora spazio alla nostra consueta rubrica dell'Autostrada dei Fiori. Vediamo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare ralentamenti al traffico dal lunedì 9 a domenica 15 giugno sul tratto della 10 Savona, confine di Stato. In direzione Francia, carreggiata nord. Tra Borghetto e Dalbenga, carreggiata doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta per il rifacimento della pavimentazione del viadotto Torsero, dal lunedì 9 a venerdì 13 anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud. Tra Andorra e Dalbenga, riduzione della carreggiata per adeguamento delle barriere di sicurezza, dal lunedì 9 a venerdì 13 solo diurno. Tra Albenga e Borghetto Stato Spirito, scambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione del viadotto Torsero, dal lunedì 9 a venerdì 13 anche notturno. Tra Feglino e Spotorno, riduzione di carreggiata per il rifacimento dei giunti del viadotto Barelli, dal lunedì 9 a venerdì 13 anche notturno. Le previsioni del tempo di Arpal Meteo Liguria indicano per domani, venerdì 13 giugno, ancora condizioni anticicloniche con prevalenza di tempo soleggiato, in particolare in mattinata. Nel pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi che localmente potrà sconfinare sulla costa con possibili isolati rovesci. Umidità su valori medio-alti, venti deboli variabili o in regime di brezza. Mare quasi calmo, poco mosso. La protezione civile segnala condizioni di disagio per caldo più spiccato nelle zone urbane e nelle zone interne scarsamente ventilate. Dopo domani, sabato 14 giugno, l'arrivo di una perturbazione da nord porterà sulla nostra regione condizioni di spiccata variabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni di intensità fino a forte. Umidità su valori medio-alti, venti settentrionali sul centro ponente in rinforzo fino a moderati, deboli variabili a Levante in rotazione da nord-est nel pomeriggio fino a moderati. Mare poco mosso, localmente mosso e la protezione civile segnala per sabato possibili locali rovesci o temporali di forte intensità. E con il quadro meteo si conclude il telegiornale della provincia d'Imperia. Grazie per l'ascolto. A domani.